Salve e buongiorno a tutti, sono a Casella in Pitteri, oggi per la quindicesima edizione del Spaglio del Grano. Sono otto le contrade di Casella impegnate in questa gara che prevede il taglio di un campo, ma la cosa importante è stare attenti a non lasciare spighe dietro. Quindi dicevo otto le contrade di Casella, ma coinvolge una trentina di comunità del comprensorio. In questo momento il reverendo, il sacerdote di Casella, sta dando la benedizione e inizia la giornata. Seguiranno degli aggiornamenti durante il corso della mattinata fino alla proclamazione del vincitore. Sono stato arruato a ritmo per militare, partecipo con una contrada di Casella e la contrada Olimpia. A più tardi.